Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, nella lezione di oggi ci occuperemo di equazioni goniometriche, in particolare di equazioni goniometriche elementari. Allora, in questa lezione quindi definiremo un'equazione goniometrica, diremo cosa si intende per equazione goniometrica elementare e poi impareremo a risolverle mediante degli esempi. Procediamo. Definiamo un'equazione goniometrica. Un'equazione si dice goniometrica quando contiene almeno una funzione goniometrica dell'incognita. Le equazioni goniometriche elementari invece sono quelle del tipo sen x uguale a, cos x uguale b, tangente di x uguale c, con a, b e c, appartenenti all'insieme di numeri reali. Allora, cominciamo ad affrontare appunto l'equazione goniometrica elementare il sen x uguale a. Disegniamo la circondezza goniometrica e indichiamo gli assi con x maiuscolo, y maiuscolo, questo per non confonderli con l'incognita che verrà indicata con x minuscolo, appunto l'incognita dell'equazione goniometrica. Ora, poiché il seno di un angolo rappresenta l'ordinata del punto della circonferenza goniometrica a cui l'angolo è associato, dobbiamo trovare i punti della circonferenza goniometrica di ordinata a, ovvero i punti di intersezione della circonferenza goniometrica con la retta di equazione y uguale a. Distinguiamo due casi, il caso in cui a sia compreso tra meno 1 e più 1 e il caso in cui a sia migliore di meno 1 oppure a maggiore di 1. Cominciamo dal primo caso, quindi a compreso tra meno 1 e più 1 e risolviamo l'equazione goniometrica elementare sen x uguale a radice di 3 fratto 2. Disegniamo nel piano cartesiano la circonferenza goniometrica e la retta di equazione y uguale a radice di 3 fratto 2. Questa retta intersecherà la circonferenza in due punti che abbiamo indicato con b1 e b2 che, uniti con l'origine del sistema di riferimento, individueranno i due angoli, pi greca terzi e 2 pi greca terzi, quindi 60 gradi e 120 gradi. Allora, i due angoli sono supplementari, infatti 2 pi greca terzi lo otteniamo sottraendo da pi greco pi greca terzi. Ora, poiché il seno è una funzione periodica di 2 pi greco, alle soluzioni x uguale pi greca terzi e x uguale 2 pi greca terzi dobbiamo aggiungere quelle ottenute sommando i multipli interi di 2 pi greco. Quindi le soluzioni dell'equazione data sono x uguale pi greca terzi più 2k pi greco oppure x uguale 2 pi greca terzi più 2k pi greco con k numeri interi, cioè 0, più o meno 1, più o meno 2, eccetera. Allora, prendiamo il caso in cui invece a sia minore di meno 1 oppure a maggiore di 1. Poiché i valori di seno x sono compresi tra meno 1 e più 1, l'equazione di seno x uguale a è impossibile quando a è minore di meno 1 oppure a è maggiore di più 1. Per esempio, l'equazione di seno x uguale 5 quarti non ha soluzione perché 5 quarti è maggiore di 1. Allora, in generale l'equazione elementare di seno x uguale a può essere determinata quando a è compreso tra meno 1 e più 1. Una volta trovata una soluzione alfa, cioè un angolo alfa tale che seno alfa è uguale a, le soluzioni dell'equazione sono x uguale alfa più 2k pi greco e x uguale pi greco meno alfa più 2k pi greco. Sarà impossibile quando a è maggiore di 1 oppure quando a è minore di meno 1. Vedete, si vede subito perché quando a è compreso tra meno 1 e più 1, la retta y uguale a interseca sempre la circonferenza in almeno un punto. Quando invece a è maggiore di 1 e oppure è minore di meno 1, la retta y uguale a non intersecherà la circonferenza, quindi l'equazione è impossibile. Andiamo a vedere i casi particolari. Quando a uguale 1, seno di x uguale 1, quindi le soluzioni sono x uguale 90 gradi più k 360 oppure pi greco a mezzi più 2k pi greco. Se a uguale meno 1, le soluzioni sono x uguale meno pi greco a mezzi più 2k pi greco oppure 3 pi greco a mezzi più 2k pi greco, quindi meno 90 o 270 gradi, sempre più k 360. Ora, facciamo un'osservazione, e cioè la soluzione alfa dell'equazione può essere uno qualsiasi di valori che indicano lo stesso angolo. Le soluzioni possono essere scritte allora in modi diversi. Allora, se il valore di a, se il valore a dell'equazione sin x uguale a non corrisponde ad un angolo noto, allora possiamo applicare la funzione inversa del seno, cioè x uguale arco seno di a, e calcolare un valore approssimato della soluzione alfa con la calcolatrice. Allora, coseno di x uguale b. Il coseno di un angolo è l'ascissa del punto della circonferenza coniometrica a cui l'angolo è associato, quindi cerchiamo i punti della circonferenza coniometrica di ascissa b. Distinguiamo due casi, b è compreso tra meno 1 e più 1, quindi b minore di meno 1 oppure b maggiore di 1. Cominciamo dal primo caso, b compreso tra meno 1 e più 1. E risolviamo l'equazione coniometrica elementare coseno di x uguale a meno 1 mezzo. Tracciamo la rete x uguale a meno 1 mezzo, vedete? Questa. Questo intersecherà la circonferenza coniometrica in due punti b1 e b2. Uniamo i punti b1 e b2 con l'origine e verranno individuati i due angoli. Il primo, quello positivo, 2π terzi, quindi 120 gradi, e l'altro meno 2π terzi, quindi meno 120 gradi. A questi dobbiamo aggiungere quelli dovuti alla periodicità della funzione coseno che è di 2π, quindi dobbiamo aggiungere alle soluzioni ottenute quelle sommando, quelle che si ottengono sommando i multipli interi di 2π. Quindi, insomma, vorrei dalla favola. Le soluzioni dell'equazione coniometrica elementare, se coseno di x uguale meno 1 mezzo, sono x uguale 2π terzi più 2kπ e x uguale meno 2π terzi più 2kπ. Lo scritto in forma compatta sarebbero x uguale più o meno 2π terzi più 2kπ. greco. Se il valore b dell'equazione coseno di x uguale b non corrisponde all'angolo noto, allora possiamo applicare la funzione inversa del coseno, x uguale a arco di coseno di b, e calcolare un valore approssimato della soluzione beta con la calcolatrice. Se invece b è minore di meno 1 oppure b è maggiore di più 1, l'equazione coseno di x uguale b è impossibile, perché il coseno è compreso tra meno 1 e più 1. Allora, in generale, l'equazione coseno di x uguale b può essere determinata se b è compreso tra meno 1 e più 1, data una soluzione beta, cioè un angolo beta tale che coseno di beta uguale b, le soluzioni dell'equazione sono x uguale più beta più 2kπ oppure x uguale meno beta più 2kπ. Impossibile se b uguale meno 1 oppure b, b minore di meno 1, scusate, oppure b maggiore di 1. Casi particolari, b uguale 1, quindi coseno di x uguale 1, le soluzioni sono x uguale 0 più 2kπ. Se b invece è uguale a meno 1, coseno di x uguale meno 1 ha come soluzione x uguale π più 2kπ. Allora, vediamo la terza equazione geometrica elementare, tangente di x uguale c. La tangente di un angolo è l'ordinata del punto di intersezione della retta tangente alla circonferenza dell'origine degli archi con la retta OP individua all'angolo. Quindi, vedete, la retta tangente e la retta IT è OP invece individua all'angolo. Per esempio risolviamo l'equazione tangente di x uguale a radice di fratto 3. Sulla retta tangente in E, eccola qui, prendiamo il punto T di ordinata a radice di 3 fratto 3. La retta OT interseca la circonferenza nei punti P e Q, eccoli qua, che indiviscono gli angoli cercati, che sono πassisti, cioè 30 gradi, e 7πassisti, cioè 210 gradi. Per la periodicità della funzione di tangente scriviamo in forma compatta tutte le istruzioni dell'equazione, cioè x uguale a πassisti più kπ, 30 gradi più k180. Allora, in generale, poiché, data l'equazione di tangente di x uguale c, il valore di c corrisponde sempre all'ordinata del punto T, per ogni valore di c si può determinare il punto T. E la retta interseca la circonferenza in due punti distinti. Cosa significa? Significa che l'equazione elementare tangente di x uguale c è sempre determinata. Dato una soluzione gamma, cioè un angolo gamma tale che tangente di gamma uguale c, le soluzioni dell'equazione sono x uguale gamma più kπ. Se il valore c dell'equazione di tangente di x uguale c non corrisponde a un angolo noto, possiamo applicare la funzione inversa della tangente, cioè x uguale arco che è riconducibile a quelle elementari, e vedremo come si risolvono. Equazioni lineali in seno e con seno, equazioni omogenee in secondo grado in seno e con seno. La reazione è conclusa, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. 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 Arrivederci.